Ciao Coldino, come stai oggi? Ciao Laiunello, tutto bene? Grazie a te! Mi fa piacere! Oh, attenzione Coldino! Oh, mannaggia, un ravagerino! Non possiamo picchiarlo però, perché poi gli facciamo male! Allora, adesso attenzione però, scappiamo via così! Saltellando un pochino! Sì, corriamo fortissimo! Bravo, bravo! Non troppo forte però, che poi potremmo cadere e farci male!